Sono già a Milano, carichi come non mai, i quattro componenti del gruppo Leviti che stasera partecipano al concorso nazionale per musica cristiana J-Factor. Parliamo di Serena Costanza, Vincenzo Sorce, Salvatore Contino e Carmelo Gallo, tutti i favaresi, tranne Carmelo che è di Aragona. Cercheremo di dare il meglio, ci dicono, l'emozione c'è, ma sappiamo che questa sarà superata una volta saliti sul palco. Le Viti, ricordiamo, sono l'unico gruppo agrigentino ad essersi aggiudicato alle finali nazionali del concorso. Si costituiscono nel 2010 con l'intento di promuovere la musica cristiana in Italia e questa finale, non a caso, è un concorso nazionale. Amano la musica, la studiano e mettono il loro sapere e la loro passione a disposizione degli altri. Sono tutti autori e compositori e attualmente ragazzi fanno parte del gruppo di adorazione nella comunità evangelica di Fevara del pastore Giuseppe Dante. Sono a J-Factor Italia, settima edizione, con l'intento di voler continuare a investire su una musica cristiana fatta con eccellenza. J-Factor si propone di essere un format show, il cui scopo è far emergere un nuovo talento artistico ancora in espresso, presentandolo massivamente alla comunità di credenti e non, ma soprattutto a quelli che non hanno ancora conosciuto la musica cristiana. Sarà possibile vedere su internet, a partire dalle ore 20, anche la diretta streaming. A Vincenzo, Serena, Salvatore e Carmelo va il nostro in bocca al lupo per questa sera. Sicuri come siamo che, comunque vada, sarà un successo.